Si rimette in moto a vittoria sviluppo Ibleo, il movimento fondato da Andrea Larose che sabato scorsa ha proceduto alla nomina dei nuovi vertici. Sono state gettate in pratica le basi per un nuovo e rinnovato impegno con l'obiettivo, ha dichiarato il neosegretario cittadino Raffaele Migliorisi, di far crescere la città nella ricerca di soluzioni adeguate a migliorare la qualità della vita dei cittadini. Oggi abbiamo addetto questa conferenza stampa per ribadire la mia nomina a segretario di sviluppo Ibleo. Ho indetto pure il nuovo direttivo che sarà supporto alla mia persona. Siamo un gruppo che a vittoria è cresciuto tantissimo, siamo molto rappresentati al Consiglio Comunale con i nostri consiglieri e il nostro vicesindaco. Penso che siamo cresciuti tantissimo, in questi anni abbiamo lavorato bene con i nostri sacrifici, siamo usciti con ottimo risultato nella campagna elettorale, oggi rappresentiamo più di 2000 vittoriesi e questo la dice lunga sul nostro lavoro sul territorio e per i cittadini. Oggi è una conferenza stampa importante perché sviluppo Ibleo ufficializza il nuovo assetto organizzativo del Movimento con la nuova segreteria guidata da Raffaele Migliorisi, ex segretario provinciale, oggi alla guida della segreteria comunale, coadiuata da un nuovo assetto organizzativo e programmatico, da un nuovo direttivo che vuole portare avanti l'impegno non solo amministrativo a fianco della giunta Moscato, della coalizione che sta governando benissimo questa città, ma soprattutto per organizzare una nuova governance che permetterà a questo movimento di essere ancora più radicato sul territorio, poi impegnato ad affrontare i temi che riguardano lo sviluppo di questa città. Io lo ringrazio, gli faccio i miei complimenti, il mio in bocca al lupo a lui, al nuovo direttivo, alla nuova organizzazione politica, governiamo questa città e cerchiamo di costruire la vittoria del domani.